Canaria e Industria del Turismo. 165 milioni per aiutare aziende e liberi professionisti del settore. Gobierno de Canarias ha approvato questo giovedì, 19 febbraio 2021, la generazione di un prestito di 165 milioni di euro per pagare gli aiuti diretti ai settori più colpiti dalla crisi generata dalla pandemia da coronavirus COVID-19. L'accordo prevede che i 165 milioni di euro verranno prelevati dall'avanzo di tesoreria degli ultimi due anni e che tale circostanza non impedirà in alcun caso alla comunità autonoma di continuare a rispettare i termini di pagamento ai fornitori. Tecnicamente, l'autorizzazione è possibile a seguito dell'inapplicabilità degli obiettivi di stabilità, del debito pubblico e della regola di spesa per gli anni 2020 e 2021. Tale circostanza consente alla comunità autonoma di destinare questi fondi ad usi diversi dalla riduzione del debito. Con la generazione di questo credito l'amministrazione dell'arcipelago compie il passo formale propedeutico e obbligatorio per la concessione di aiuti diretti al settore turistico contemplando supporti economici per le piccole e medie imprese e anche per i lavoratori autonomi. Staff de Info Canarie, rubrica strategica, infocanarie.com